Hola, io sono Marcus Cron e bentornati nella Gandacraft Ragazzotti, giro un solavo per provare il nostro nuovo incantesimo Expelearmus Quando ho trovato sta strutturina e ho detto Ma che cosa ci sono dentro? E... Una nuova Nightfall Chessplate Quindi siamo di nuovo neri e abbiamo di nuovo Resistance Ma è maraviglioso, ma è bellissimo Prenderò tutte queste cose, in mantenente, con i corpi e anche un po' con la mente Questo mi interessa, sì, questo mi interessa, le slimeball potrebbero interessarmi E questo slab, questa è bella donna seed, me lo prenderò E... andiamo a casa sotto, visto che non ho trovato un mostro manco a pagarlo de notte Beh, vabbè, e vabbè Cioè, dov'è casa, tipo? Porco! Expelearmus! Non funziona Ecco il nostro castello Ragazzotti, come un buon ragazzotto mi ha fatto notare Anzi, io ringrazio Sentitamont Questo qui è Enchantated, sì Questo è Enchantated e questo è Enchant... No! E questo è Enchantated Perfetto Anche questo è Enchantated È un po' tutto Enchantated Con questa mod qua La Enchantation Vatte la Pesca Plus Possiamo de-enchantare le cose Non l'avevo notato Però effettivamente qui No, però in questo caso... Eeeh, non me lo ridà? Come mai? Non me lo ridà? Strano, per gli oggetti... Ecco perché Ecco perché Per gli oggetti non vanilla non me lo ridà Invece ho Enchantato questa Diamond Chestplate E mi ha riaddato... Mi ha riaddato... Mi ha riaddato? Che vuol dire? Mi ha ridato i livellozzi Ora, ho qualcosa di Vanilloso Enchantato Da cui potrei attingere... Ah, avevo ucciso degli scheletri Venendo di qua Oppela Vediamo se c'è ancora... Avevo visto un arcio enchanciato Eccolo qua Optimus Andiamo a vedere Se l'affare funziona E soprattutto se funziona anche con oggetti con durability Già un po' consumata Tipo questo qui A Power Io glielo levo Glielo... Voglio levare No ma no ma no No ma no Perché? Perché? Oh mio dio Nuba mi porta un cornettozzo Così mi costa Così va a zero Boh Non l'ho capita questa Scendiamo un attimo in cantina Per vedere se i nostri semi di esperienza Qui non niente Non ha funzionato È stato un tentativo fallito Ta 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 Vabbè questi li lascio qui E vediamo quanti livelli fasciamo Ta 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 Uno solo Only one Kenobi No però dobbiamo richiudere qui Perfetto Ciao ciccio E niente E niente Incantiamoci questa qua Gli voglio mettere Protection Production Unbreaking Molto bene Magic resistance Ah Non lo posso mettere E thorn Thorn Ah na 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 Oh mio dio No questa ragazza è molto vecchia Che non ho conoscendo Quanto mi piaceva quella cantante Esteticamente Thorn o unbreaking Unbreaking o thorn It is the problem Ci metterò Leerò questo Farò Così No Ok ci metto Magic resistance E vattene a pesca Enchant E voilà Signori siamo Bellissimi Nel nostro completo nero Oh ma le maniche Strapacciate Ma è bella Mi piace Mi piace Mi piace Assai Bene signori e signori Volevamo provare questo Incantesimo Chissà se ne avremo occasione Ma qui il mondo non si carica Oh ma che figo Mondo Mi fai la cortesia Eh Mondo Il mondo Non si è fermato Mai Un momento Chissà perché ho fatto Quella costruzione laggiù Hmm Ma che è Eh Ma che Ma che diavolo Ma Moonlight Moonlight Nananan-in No non era così Andiamo a vedere Un attimo Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Up Oh mio Dio annt Ah Ah ma qui c'è una miniera E una miniera Vabbè io ovviamente mi sono buttato di sotto E adesso devo risalire E che bolle Ci vediamo a frappè Perché son coglione Ciao Oh dopo lungo Andare per aria In cielo Volando Saltando e soprattutto sparando fulmini Ho ripreso la nostra barchetta Un po' Ritorniamo un po' indietro nel tempo Quando esploravamo questo grigio e mesto mondo Soltanto con delle barca ozze Eh che carina che è Ma non mi ricordo se ho fatto quella più grande Ma, ma, ma Alcune volte si buggano queste Tipo una volta ho perso tutto il mio inventario Comunque non ho detto dove stiamo andando Stiamo andando Ad un bellissimo vulcano Che non so se vi ricordate Ad una puntata di esplorazione Di mera esplorazione Avevamo Spitzed Ok? In quella puntata un ragazzo mi ha scritto nei commenti E poi effettivamente ho verificato E mi ha detto Marcus guarda che quello lì non è un semplice vulcano E io mi sono posto Ma che cos'è? E in realtà è un altro dungeon della Chocolate Quest Quindi vediamo dove possiamo andare Di qua Di qua, si, molto bene Quindi ci stiamo dirigendo laggiù Per me ci vorranno abbastanza minuti Ma per voi passeranno pochissimi secondi Abbiamo abbandonato la nostra Barcozza Al fine di passare in questa Tortuosa foresta Tortuosa foresta Forestuosa foresta Quassù c'è una di quelle casotte Sto pensandoci Ci sto pensando Sapete che ho notato che vado più veloce Se uso AST e Levitazio? E visto che non mi si consuma tanto mana Se io lo intervallo a botte regolari E tenendo d'occhio il Brout Riusciamo a salire in maniera abbastanza decente Vediamo che macchina che troviamo Io voglio trovare assolutamente le pepette Quelle della Nightful Sì Tu nonna Eccoci qua Ok Io direi di sbroccolare dall'alto Spaccare il book a tutto quello che c'è Vediamo un poco Ecco mi sono incastrato Iniziamo bene Oh a belli Ciao cicci puzzi Ma lei deve morire immediatamente La rompo Questi me li prendo Che non si sa mai nella vita Andiamo a vedere cosa c'è nella chest Poca roba Poca roba Ma va bene Lo stesso Va benissimo Qui dentro cosa c'è? Niente di interessante Tu mi stai tipo rompendo lo swa La swaus Ma fa niente Non mi fanno quasi niente Che figo E di qua c'erano un paio di chest Libri 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 Interessante Libri 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 E qui? Libri 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 Che palle Chicco ormai sono abbastanza fortino Quindi devi girare a largo Ok abbiamo visto quello che dovevamo vedere Sì va bene Ciao Woohoo Allora la direzione è quella Quindi si va E velocità Uh vediamo se funziona Sì Oh mio dio Uh lamerissimo Il fucile che fa malissimo Noo mi da un sacco di guande Del teletrasporto Ma mori Doverno ladro Sei morto Morto Guardate quante me le date E se faccio così Si ripara Aha Orgem Io sinceramente Già l'ho provata che cosa fa Quindi per ora La buttiamo qua dentro E magari mi fa da Da oggetto estetico Sì Ci può stare Facciamo Ok Allora Dov'è il puntino rosso? Il puntino rosso è per di qua Se vede io non ho un chocobo Vorrei allevare di chocobo Sì Sì White no White 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 not Why not Ta 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 Per Messico Oh Oh What a nice structure Sì Beh Anche a te Ma è un Un aravine È aravanaisy Aravanized Credo Oddio Non ci sto capendo niente Aspettate Aspettate Sì Sì Permesso Ok Di qua Mmm Possiamo dirla Dal Oh ma qui 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 è piatto Dunque 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 Qua è una strana struttura strutturiforme Eeeh Padabim Non sembra esserci niente Che struttura inutile Ma perché io salto quando posso svolacchiare Vediamo se dall'alto c'è qualcosa Non si direbbe Bene Va bene Va bene così Allora Velocidad Eeeh Via Più veloce Della luce mi piace gironzolare con questo coso perché non sporano mai dalle mie parti giustamente un ragazzo mi ha fatto notare che serve un cavallo bianco per il signor Gandalf no che succede crash pensavo a bello de casa vediamo quanto ti faccio con la luna piena non te la posso tirare va bene oddio stiamo laggando mi sa che si sta generando un botto di robetta aspettate che esco e rientro ok ok dovrebbe andare vediamo si ha già della vita tolta 14 vabbè non è male perché non consumo così tanto mano quanto ne ricordassi prima che strange quanto mi fai? ah mi levi mezzo cuore vieni qua che ci penso io a te vieni qui vieni qui un ragazzo mi ha detto fatela la spada di questo qui ok me la farò poi intanto voglio andare a cercare le pepette come si chiamano le pepette davvero? oddio pepette 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 oh che bella pepette 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 si chiamano i boots giustamente boots andiamo a confondere con le boobs oh titan hide ok come si craft? non ce lo dice no cavalli bianchi mi è stata affa rosica oh ciao ciccio come stai? tutto porno? non siete molto utili va bene ciao bella per voi cavallo laggiù c'è la strutturina oh ma sei un piccolo no questo era un piccolo ombromanto come posso trattenerti con me? cioè dovrei riportarti indietro per chilometri aspetta aspetta se io ci salgo sopra non mi ci fa salire giustamente maledetto i posti che non ci sta nei villaggi vabbè vabbè tornerò vado di qua laggiù l'abbiamo già visitato se non l'avete vista andatevi a vedere la punta tozza qui praticamente la chocolate quest la fa da padrona e quassù ma quello è un villaggio classico? eh? è un villaggio classico tipo con gli orti però ci stanno gli enderman ok non mi picchiate vero? siete buoni? chicco enderman guardian ok salve un vecchio endermione e tu sei un cretinone spacco sbroccolo di qua asini ciao ma che carino ma come sei piccolo quanto sono brutti ma se io gli distruggo tutto loro si incazzano cioè nel senso tipo posso fare così così no non si incazzano tipo gli distruggo tutto oh mio dio poverini mi dispiace tanto va bene scusate questa è violenza gratuita lo so me ne rendo conto ma non mi va di cercare la porta è tutto qui è un semplice fatto di pigrizia oh nonno come stai? tutto bene? saliamo di qua no dove? di solito c'è una chest qui c'è una chest no ok ok mi dispiace essere passato per questo villaggio davvero la prossima volta mi farò i cazzi miei bella casa forse c'è un po' troppa corrente per una persona della sua età eh già ok continuiamo la nostra no che bello il cavallo nero tu sei brumbrumanto vabbè e c'è anche un altro cavallino nero che palle perché non ho mele a portata di end taratatan taratatan taratatat scusate ho visto un ender golem me lo vado a ciappare due ender golem e pinipim 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 pum pum pin ok qui dentro t'è Cicciopelato che ci da Blade Spur e lui ci da il Gampone però io non ho rubini c'è oddio forse ce li ho ma non mi interessa Allora Oh ma quanto cazzo di sta Oh mio dio Fino qui Oh santa pace Spero di incontrare qualcosa di interessante in tutto questo Che cos'è questo Ah ah un flower There is a flower Na 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 Quando potrei volare Na 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 E vabbè Oh no 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 Le diamo a mezzaluna per favore Qui intanto io vedo il mondo che lagga E quindi si stanno caricando dungeons Dungeon Ma va bene lo stesso Allora Per di qua Un bioma sghiacciato Che però c'ho anche vicino a casa Quindi chi se ne frega Stavo pensando di prendere un po' di neve Ma no ce li ho Ce li ho Ce li ho No aspetta aspetta c'è qualcosa che non va Ma è possibile Ma è possibile questa cosa Nel dubbio Noi Prendiamo la baccozza Mangiamo la bisteccozza E ci dirigiamo verso il punto Sì, aspettate che sto a fare manovra Oh, ci siamo sganciati Quindi, quindi, quindi Dobbiamo andare dritti per dritti Chissà se, tipo, magari mi si è fottuto La mod della mappa E sto facendo tutto questo per nulla Chi lo sa? Vedremo Mi sono fermato su questo isolotto Perché avevo visto questi fiori qua Ok? Non ce ne ho mai abbastanza Quindi li ho presi E avete preso... Ormai avrete preso confidenza con i miei video Saltello sempre E guardate Avete visto? Avete visto? Signori, c'è una struttura sommersa Ma che cazzo di ficata C'è una struttura sommersa Bambabau Vorrei la mia barca Perfetto, molto bene Stiamo andando Devo dire che in questa Chocolate Quest Mi garba Mi garba Mi garba Mi garba parecchio Allora, laggiù sembrerebbe esserci Ma chissà se è fatta apposta O è un brag Oddio, ci stanno le fence Forse è fatta apposta Non lo so Non lo so Lo scopriremo solo vivendo Ondolo, ondolo, ondolo Eeeh... Ma che bello Ma che cazzo di ficata Però non vedo nessuno Nessuno stronzo No, no, ci stanno gli stronzi E sono tritoni È fatta apposta Ma, ma, ma che cazzo Ho trovato Atlantide Ho trovato Atlantide E adesso se soltanto riuscissi a volare Oh, sarebbe fighissimo Ok Se sbroccolo qua dentro Oh, ma salve Ma lei è un... Ma è bellissimo E se ti tiro una magia? Non funziona Col cazzo Va bene Ok, ti uccido Dunque Dell'oro Salve Salve, signor Tritone No, guardi davvero Sono degli squid Lei è morto, signor Tritone Mi dispiace Mi dispiace davvero Mmm Un secchio di... Ma perché? Perché? Che vi ho fatto? Perché prima Non tentate di parlamentare Almeno Vediamo un po' Lo status degli oggetti Qui intanto Stanno tutti spaccando cose L'anvil Mi potrebbe interessare? Mmm Non lo so Non lo so Però Però, nel dubbio Noi giochiamo coppe Fatemi vedere Com'è lo status Si riparano le anvil Beh Comunque Prendiamo Oh no C'ho tutta sta robaccia schifosa Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ma porca... Ah, ma stai dietro. Bastarda. Bastarda. Non ti curare. Non ti curare. Germogli. Una chest. Niente di chest. Un'altra chest. Una sella. La sella è buona. Mangia che è buona. Qui c'è un cactus che è cresciuto e io scendo le scale e incontro Pasquale. Ora, visto che non è che me frega tanto di fede... Però lì ci stanno tante chest. E anche qui c'è una chest. Oh! Oh, Orbs. Ma perché tu riesci ad attaccarmi dalla porta io, no? Eh? Brutto maldito. Pimpata. Scusate. Mi rompo un attimo. Ecco qui. Oh, fantastico. Bella per voi. Bella per voi. Chi è che mi sta tirando di sbombata da us? Fermi tutti. Ma questo è forte. No, sei morto. Oh, me la vado a me da una minchia. Voglio aprire la chest. Ok. Sella. Sella. Sella di padella. Niente di che. Qui c'è un arciero. Muori. Voglio provare a tirargli una fulminazza. Vediamo che gli faccio. Oh, sei. Cioè, sei. Non è che sia un granché, però. Oh, il melone. Noi non avevamo il melone, vero? Dico bene o dico esatto? Mmm. Legno, scale, le lasciamo. Un pezzo di lana. Il nether brick. Effettivamente non è che ci interessa poi così tanto. E, e, dov'è? È qui. Ci leviamo ste cazzatelle qua. Come ho fatto a prendere la libreria? Ah, dentro un loot. Un loot. Facciamo così, così, così. Così. Le sale le metto qui. Gli stick li leviamo. Sì, li leviamo. Ehm, vabbè, l'handstone. Ci si fa qualcosa con l'handstone? Bheh. E dentro questa chest maravigliosa, io voglio prendere pure le patero. Questo melocoso. Effettivamente mi serve più di un butt pack. Mi serve molta, molta, molta roba. E questo via, questo via. Ok, tanto di cianfrusaglie ci riempiremo. Ci riempiremo subito. Ehm, qui dentro che c'è? Del pesce. Ehm, non ci interessa. Voglio prendere una zucca. Grazie. E per di qua. Che carino. E vi piace tantissimo il coso. Il cactus dentro il... Il vasetto. Ok. Scenderne, signori. Scenderne diretti verso l'infinito ed oltre. Guarda quanti libri. Oddio, i libri forse potrebbero farmi comodo, eh. Lo faccio? Lo faccio? Sì che lo faccio. Lo faccio. Lo sto fando, eh. Lo sto fando. Oh, scusate, non volevo. Davvero, non volevo. Guarda. Oh mio Dio. Scusate, davvero, non volevo distruggervi casetta. E dai però, fammi uscire. Ho capito. Avete uno da voi. Morite sciocchi! Oh, sono tutti arciani, cazzo. Boni. State boni. Boni. Sono tosti, eh. Sono tosti. Oh, cura ferite, cura ferite. Cura ferite, cura ferite, cura ferite. Ok. A parte non è cura ferite, però è lifetap. Però va bene lo stesso. Tu, tu, sei tu quello che me menavi assiduamente, con il corpo e con la mente. Non ho il tempo di verificare se riesco. Ma state vede quanti cazzo di frecce stanno a tirare. Dovete morire. No, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Lifetap, 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 lifetap. Ok, mangio il melone. Sì, me lo mangio. Aio. Dov'è disarma? Eccolo. Perché non lo butto? Devi disarmarlo. Niente, non lo disarma. Va bene. Le aranature stanno gnè gnè. E io voglio ancora altri libri. Posso avere gli altri libri? Sì. Grazie. 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 Qui dentro che cosa c'è? Non ci interessa. No, lava, no! Qui dentro non ci interessa. Salve, come state? Tutto porno? Vai alla grande, sei proprio buffo quando sei in mutande. Ti farò volare come pedigree. Non me la ricordo. Grand Polar la prendiamo. Tante librerie. Portami via. E qui c'è un tizio che si nasconde. È un fantasma. Eccolo. Oh mio Dio, è quello super forte. No, 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 no. Ritirata, ritirata strategica. Ritirata. Ok. Fantastico. Fantastico, come direbbe il dottore. Scendiamo giù. Siamo arrivati all'ultimo piano. Ok. Aha. Aha. Salve. Tutto a porno? Qui non c'è il boss di Final Live. Dai, basta. Non me fate male. Io vengo in pace. Non ho mai detto che voglio picchiarvi. Brutti tritoni che non siete altri. Mori. Mori. Ok. Ok. Ok, mangiamo. Che cos'è questo? È un Wool of Bat. Ah, per fare la Witch. Mi dite se vi va di fare la Witch. Perché è una mod molto, molto, molto grande. E soprattutto molto, molto lenta. Allora, qui si stanno parlando. Ma qui così risalgo. Mmm. 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 Qui tritone ci cova. Mmm. Che, che? Sembrava un berretto. Haha. Ok. Ah, 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 ah. Quanti siete? Quanti cazzo siete? No, forse sono tantini, eh. Sono tantini. Cominciano ad essere tantini. Sono tantissimi. Però se vengono vicino a me, no, tu non ti curerai, hai capito? Uno sì, due no. Mori. Mori. Quanto sono buffi. Oh, diamante. E vai. Prendono. Quasi mai diminato diamante. No, c'è quello superforte. Non ti curerai superforte. Mori. Ok. E anche tu sei morto. Mi dispiace. Sì, hai l'armatura di diamante, ma sei morto. Oh. Chi è che mi ha sparato? La porta è invisibile. Spatim, pitim, 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 pitim. Ok. Oh. Questo potrebbe renderlo questo. Oh, ma c'è un blocco d'oro. E non l'avevo visto. Allora, facciamo così. Ci buttiamo questo, 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 questo. Mm-hmm. Questi. Questo. E prendiamo il blocco d'oro. L'armatura di diamante, sì. Perché no? E un music disc, 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 disc. Non ci interessa. Qui c'è una sella. Già l'abbiamo. Sì. E qui c'è dell'acqua preponderante. Dai, acquati. Oh, ci stiamo acquando. Ok, allora. Io sono sceso da qua e sono andato qui. Qua e qua. Se salgo qua su, qui c'è la mia nave. Se salgo qua su, trovo una struttura... Mamma mia, come piove. E piove. Senti come piove. Sì, madonna, come piove. Senti come... Quindi questi posti sono connessi. Sembrerebbero essere connessi. Ok. Adesso se io entrassi da qua sopra... Probabilmente... Ok, voglio soltanto vedere se c'è... Un bossino. Qui ci sono delle prigioni. Vai col buccacchie. Stiamo ballando, praticamente. No, non ti curare, non ti curare. Piece of murder. Piece of murder. Cura, 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 cura. Ok. Ma come sto? Ah, ok. Con la mezzaluna, no. Tu vieni qui. Bello di casa. Sei morto. Ho detto che sei morto. Non puoi esimerti. E se vado di qua, vado in quest'altra structure. Oh, mamma mia, quanti siete, regà. Siete davvero tanti, eh. Pimpete, primate, pimate, pimate. Oh, vedi. L'ho sbaragliati. Che figo. Este invece lo carico al massimo? No, liscio. Oddio, ho finito il mana. Eccola là. Ho finito il mana. Ma ningo problema. Ci curiamo. L'importante è stare attenti al... Braff Aldbraff del mana Vieni qui, dai, ok Oh, io spero che voi ci capiate Perché io effettivamente sa venire in mal di testa Forse uccide tutti sti stronzi Muori No, no, non farei cargarismi col tantum rosso Ok, vediamo qui Un orb No, però pozioni d'incanto Questa gold me la prendo perché si può da squagliare Salve, cicci puzzi Pimpat No, non volevo fare questo Volevo fare questo, questo Oh, che figo La mossa segreta Fighissimo Ok No, io direi di abbassarci un pochino Ok, vai con il lifetap Ok Per di qua Mangiamo Ah, perché fanno Se poi non sono villager Mi andrebbe di prenderle queste Sono di Vabbè, intanto la porta La glock è questo Ci voleviamo E ci prendiamo questo Poi vediamo Perché del domani non va certezza Mie cari amici Basta, abbiamo finito No, qui c'è ancora una stanza Ci sono le prigioni Oh, hanno imprigionato un tizio E io li salvo Oddio, che ho fatto? Fermo Io li salvo No, non volevo Ciao ciccio Tu che mi dai Una bussola Ottimo Ottimo Per dieci smeraldi Vai ciccio Sei libero anche tu Ti chiamerò Jin E tu sarai Jack Daniel Yeah E io non avrò più il fegato Ora, fatemi vedere Oh mio Dio No, di nuovo l'armatura sta a merda Io direi di Andarcene 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 Barchetta Oh, ma qui piove Governo ladro Facciamo subito Un enchant Giusto Giusto, scusate Facciamo subito Un enchant Come si chiama questo? Dove sono? Su Cura ferite? No Basta pioggia Basta pioggia Ho detto E adesso Aumenta un pochino E adesso se ne va Oh, adoro il potere magico Bene, bene, bene Laggiù che cosa c'è? Ah Un'isola di slime E laggiù che cazzo dovrebbe essere? Che cosa è questa? Ma è una barchetta Vai, vai, vai La barchetta va Me son castrato L'immortacci tua No Non posso più prenderla Sono pieno di cose Facciamo così Dicevo Andiamo a vedere un po' Sta barchetta che c'è dentro È un po' Diciamo Rozza Come struttura navale Del pane Ottimo Davvero Grazie mille Allora Facciamo così E ci andiamo a mettere Questa qua d'oro O è meglio questa qui? Sono uguali Quindi metto Quella d'oro Metto quella d'oro Perché non voglio assolutamente Rompere la mia Oppela E Andiamo Andiamo alla direzione Signori e Signori Del puntino Che incomincio a pensare Effettivamente Ti ha un bug del sistema Andiamo Signori Zitti zitti Guatti guatti Se sono fatti 30 minuti di registrazione Come il mio solito E abbiamo Scoperto Due interessanti strutture Qui c'è un fiorellino rosso Io mi prendo Due interessanti strutture Che sono Quello lì Che sembra la faccia Di un testificate Sembra Non lo so Non O sembra Un papero Con un coso Un fazzoletto Tipo quando la nonna C'ha gli spifferi Una struttura Classica Dell'Ansient Worse Months Months E laggiù c'è un'altra cosa Io direi Che ci vediamo Nella prossima puntata E andiamo ad esplorare Questi posti E poi speriamo di arrivare Fino dove il puntino rosso Ci indica Che è davvero molto lontano Cioè guardate la strada Che abbiamo fatto Guardate dove dobbiamo andare Ok Ragazzi Visto che è l'ultima volta Andata bene Io vi esorto A mettere mi piace E visto che di solito Facciamo 1800 Se ne facessimo 2000 Sarebbe una cosa grandiosa Io vi ringrazio Del vostro supporto E del vostro aiuto Noi ci vediamo Lunadì Con la Gandalf Ciao a tutti